buonasera a tutti io sono luca fiore questo è oggi in borsa l'esclusivo format timone punto it sull'andamento dei mercati finanziari dopo le forti vendite che di cui abbiamo parlato ieri oggi e sui listini europei in particolare ma anche c'è positività anche a wall street abbiamo assistito al più classico dei rimbalzi una seduta perfettamente speculare a quella cui abbiamo assistito ieri in linea l'andamento del nostro futsalis è salito di circa due punti percentuale 24.463 virgola 89 punti spinto dalla performance stellare di stellantis perdonato il gioco di parole salita del più 7,03 per cento dopo aver annunciato di aver chiuso il primo trimestre con ricavi in aumento del 14 per cento 37 miliardi di euro e consegni in crescita del 12 per cento nonostante il settore si trovi a che fare con una carenza di semiconduttori che sta impattando chiaramente sulla produzione la società ha confermato la guidance 2021 la seconda performance migliore del paniere blue chip è stata registrata da cnc industria il 5 27 per cento che ha chiuso il trimestre con ricavi in aumento del 37 per cento inutile netto in versione adjusted di 454 milioni di dollari non solo ma la società ha rivisto anche a rialzo le stime sull'anno in corso in depositivo tra le società che hanno presentato i conti c'è anche intesa san paolo più un e 43 per cento che nei primi tre mesi ha registrato un utile di 1,5 miliardi di euro quindi più oltre 30 punti percentuali in più rispetto a 12 mesi fa decisamente maggiore del del miliardo di euro stimato dagli analisti la società ha detto di essere pienamente in linea con l'obiettivo di un utile netto per l'anno superiore a 3,5 miliardi di euro domani sarà la volta di unicredit più 2 e 56 per cento messo a segno oggi tra le performance peggiori peggiori si fa per dire perché sono decisamente le contrazioni sono decisamente contenute troviamo almeno 0 6 per cento italia com italia salita parecchia nelle ultime sedute in scia delle dei forti progressi dal fronte rete unica italgas che anche oggi ha anche essa oggi ha presentato i conti ed era meno 0 24 per cento sul completo la performance migliore un rialzo a due cifre di poco sotto i 25 punti percentuali stata registrata da exprivia più 24 e 75 per cento nuovo balzo del titolo della s roma che dopo più gli oltre 20 punti percentuali registrati di guadagno registrati ieri e oggi ha segnato un più 9 23 per cento segno che l'effetto murino non sia ancora esaurito mentre tra le performance peggiori meno 8 43 per cento di i price e meno 381 per cento di aedes tra sul mercato dei titoli di stato segno più anche per lo spread salito oggi del 1 7 per cento a 107 punti base da money.it per oggi è tutto l'appuntamento e a domani buona serata